Bisognerà attendere ancora una settimana per l'approvazione del piano anti-assembramento della prefettura. Oggi il prefetto Rosalba Scialla ha incontrato i sindaci di Pavia, Vigevano e Voghera nel primo incontro in presenza del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sul tavolo ci sono diverse ipotesi alle quali stanno lavorando in modo sinergico istituzioni e rappresentanti del mondo del commercio. Pare di difficile applicazione l'ipotesi di un contingentamento delle piazze principali con ingressi e uscite. Più probabile un'impostazione unica che preveda regole chiare e condivise per tutti i comuni come lo stop alla vendita di alcolici a tarda notte e la chiusura di alcune aree della città per evitare i bivacchi. Il piano anti-assembramento, una volta approvato, dovrebbe venire adottato da tutte le amministrazioni comunali della provincia di Pavia. L'obiettivo è limitare i rischi per la salute pubblica nelle serate del weekend ma anche potenziare i controlli per evitare che si verifichino nuove risse tra giovani, come è già successo nei giorni scorsi a Pavia e Vigevano. I sindaci hanno proposto alcune modifiche al piano che potrebbe venire approvato la prossima settimana. La prefettura ha reso noti in queste ore anche i dati relativi ai controlli effettuati durante la fase 2. Sono scattate 91 sanzioni e 23 denunce su oltre 17.000 persone controllate. Due locali pubblici si sono visti recapitare multe di diverse centinaia di euro per l'inosservanza delle regole sul coronavirus e un locale è stato chiuso in via temporanea.